Investire di più, armonizzare il quadro normativo, innovare e fare passare l'idea che la sostenibilità ambientale non è buona solo per il pianeta ma anche per l'economia. Sono queste alcune delle principali linee guida per promuovere una crescita verde, secondo il quadro tracciato dai relatori che hanno preso parte alla due giorni How Can We Foster Green Growth, l'iniziativa organizzata a Bruxelles da EU News e dalla Società di Public Affairs Consenso e ospitata dal Comitato delle Regioni. Per fare ripartire un sistema economico sofferente e rilanciare la creazione di posti di lavoro, quello verso un'economia più verde sembra ormai un passaggio obbligato. No, non c'è alternativa perché lo vediamo lo Stato in cui versa il nostro ambiente, quindi oggi c'è bisogno di investire in tecnologie verdi, però non solo in termini di sostenibilità ambientale ma anche in termini di politica industriale. Se riusciamo a fare questo salto anche culturale, a impostare un nuovo paradigma economico e oggi ne vediamo anche la privilegiata opportunità perché il nostro sistema di sviluppo è in crisi e appunto per farlo ripartire, e già oggi i dati delle imprese ce lo dicono, se una su tre investe già in tecnologie verdi, oggi per farlo ripartire occorre ripartire appunto dalla economia verde, dalla green economy. Credo che se si sapesse quanto costa produrre energia con il carbone o con altre fonti fossili, probabilmente lo stimolo a fare altro sarebbe più forte e non avremo questa pressione anche molto forte sull'opinione pubblica che è stata portata a credere che per esempio fare energie rinnovabili o efficienza energetica sia più caro e quindi meno desiderabile. Una svolta green insomma può fare bene anche all'economia, ma con quali strumenti finanziari sostenerla? Ci spostiamo da sistemi finanziari dove ci sono degli istituti, come gli istituti bancari più stabili, quelle che c'erano prima della crisi, a un sistema dove c'è la partecipazione delle persone come un crowdfunding, come altri sistemi dove noi utilizziamo ICT per esempio per finanziare dei sistemi, delle proposte e così via. Questo è molto importante perché soprattutto nelle innovazioni e nella crescita aperta queste fanno il grande, molte volte non si trovano nel mercato gli investitori, ma gli investitori si trovano in un mercato più ampio. Fondamentale anche il sostegno pubblico, i cui strumenti vanno però mantenuti aggiornati. La prima ondata di incentivi alle rinnovabili ha visto sostanzialmente ad oggi la sua conclusione, ha portato risultati in termini di volumi di rinnovabili che sono state installate sul mercato, ma ad oggi gli strumenti che sono stati utilizzati fino ad oggi stanno mostrando la corda e quindi è necessario per il prossimo futuro, nonché anche per arrivare agli obiettivi del 2030, sicuramente ripensare gli strumenti di supporto. Quasi tutti i settori stanno tentando di diminuire il proprio impatto ambientale, compreso quello dell'aviazione, la cui produzione di emissioni di gas serra potrebbe crescere, secondo gli esperti, anche del 700% entro il 2050. Abbiamo guardato un numero di opportunità riguardo al crescente di crescita, uno di questi sono i materiali sostenibili, cosa possiamo usare nei nostri aeroporti che vengono da materiali riciclati, altrimenti come possiamo riciclare i nostri aeroporti al fine del giorno, anche come si tratta con la scuola che vengono da nostri aeroporti al fine del nostro prodotto. Quindi è davvero un circolo, un riciclo di vita, quindi il biofuel è probabilmente il componente principale di oggi, ma ci sono itemi che riguardano come manufaccio i nostri aeroporti e l'ultimo servizio dei nostri aeroporti. Ma ognuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa partendo dalla riduzione degli sprechi. La maggior parte dello spreco avviene in verità a casa nostra, nelle nostre cucine, nelle nostre case, eccetera. È chiaro che bisogna da un lato agire sulla cultura e quindi nelle scuole attraverso un insegnamento su quello che è lo spreco. Ai tempi dei miei nonni il problema non si poneva, nel senso che si finiva quello che era nel piatto per definizione. L'altro è creare le condizioni perché i cittadini poi questa cosa la possano fare, la vivano come una cosa positiva e non una difficoltà, partendo anche dando degli aiuti agli enti locali che su queste politiche devono passare da smettere di essere sempre degli eroi perché fanno queste cose, ma che diventi una procedura assolutamente normale. Le questioni aperte insomma sono tante e molte risposte dovranno essere trovate nei prossimi anni. Resta da vedere se l'Europa sarà all'altezza della sfida. Grazie.